Assegnati fondi circa 822.000 euro per il centro polifunzionale dell'asilo, il Ministero eva su una delle richieste del Comune di Sulmona riguardo il progetto di ristrutturazione, messa in sicurezza, riconversione della scuola dell'infanzia Regina Margherita in centro polifunzionale. Il Comune aveva risposto al bando del Ministero che con una dotazione economica di 100 milioni di euro prevede l'erogazione di contributi per la ristrutturazione, messa in sicurezza, riqualificazione di assidi nido, scuole dell'infanzia, centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiare del Paese e nelle periferie urbane con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici esistenti. L'intento, come già spiegato dall'ASP2, è quello di creare un centro polifunzionale per evitare la dismissione della struttura nel momento in cui sarà realizzato il plesso unico. L'obiettivo è anche quello di lasciare una serie di staccata nella sede storica dell'asilo. Non ci fermiamo, anche questa opportunità andava colta con la collaborazione degli uffici comunali che ringrazio e ferma l'assessore comunale ai lavori pubblici Salvatore Zavarella. Per quanto riguarda il nuovo presto da realizzare in via a Cornacchiola è attesa la risposta del Ministero.